Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo subito i principali fatti di oggi. Gli agenti della squadra mobile lo hanno bloccato all'ingresso della metropolitana. Caliera evaso dai domiciliari nell'ottobre di tre anni fa deve scontare 30 anni per traffico di droga. Blitz della finanza in un deposito gestito da una cittadina cinese vicino alla stazione centrale. Sequestrati 5 milioni di mascherine non conformi e 2 milioni di dispositivi medici. Dalla riapertura di barri e ristoranti all'aperto all'utilizzo del Green Pass per gli spostamenti tra le diverse regioni. Le novità della prossima settimana dividono i milanesi. E da lunedì lezioni in presenza delle superiori garantite per almeno il 70% degli studenti. Da maggio in tutta la regione saranno usati i test salivari molecolari nelle scuole. A gennaio del 2021 i decessi del Magentino e dell'Abiattensi sono aumentati del 20% rispetto all'anno precedente a causa del Covid. Il dato pubblicato dall'Istat. In apertura come avete sentito la crona che è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Milano nel capoluogo. Il narcotrafficante e latitante Antonino Calisso. Di lui una pena di 30 anni di reclusione. Sentiamo. Una carriera criminale consistente iniziata già nel 1998. Traffico di stupefacenti, affiliazione con associazioni a delinquere come i Casa Monica e il noto clan camorristico dei Pagnozzi, reati contro il patrimonio, frode, ricettazione, possesso di armi clandestine fino ad arrivare a 20 anni dopo quando nel 2018 agli arresti domiciliari Antonino Calì manomette il braccialetto elettronico che gli era stato applicato ed evade dalla detenzione domiciliare facendo perdere le sue tracce. Questo fino alla mattinata di mercoledì 21 aprile è quando gli agenti della squadra mobile di Milano lo hanno tratto in arresto in quanto ricercato perché destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione per il quale deve scontare la pena di 29 anni, 8 mesi e 14 giorni di reclusione. Dopo un excursus delinquenziale e prolungato di spessore Antonino Calì è stato arrestato l'ultima volta nel 2013 all'esito di un'indagine nei confronti di un'associazione operante in varie attività illecite tra le quali il traffico, lo spaccio di sostanze stupefacenti, le istorsioni, i reati contro la persona, il riciclaggio e il reimpiego di risorse economiche di provenienza illecita in attività imprenditoriali dopo un periodo custodiale in carcere in alternativa a detta misura nel mese di maggio 2018 aveva ottenuto la concessione degli arresti domiciliari il 3 ottobre 2018 però aveva deciso di darsi alla fuga da allora si era reso irreperibile finché nel 2020 le indagini della squadra mobile di Roma lo localizzavano in Spagna, precisamente a Valencia recentemente però l'attività investigativa aveva registrato il suo spostamento dalla penisola iberica al paese nativo, precisamente a Milano ed è così che sono iniziati i riscontri della sua presenza in città finché il cerchio non si è ristretto alla zona di Porta Venezia individuando il possibile appartamento in via Paolo Frisi gli agenti della squadra mobile hanno allora cominciato dei servizi di osservazione ininterrotti per due giorni appostandosi in una terrazza che affacciava dall'alto sul cortile con l'ausilio di telecamere e binocoli fino a quando nella mattinata del 21 aprile vedono un uomo dalle sembianze simili al ricercato uscire dal condominio e dirigersi a piedi verso la metropolitana gli agenti iniziano a pedinarlo e una volta accertata l'identità lo fermano prima della fermata della metro lì l'uomo una volta resosi conto di trovarsi di fronte alle forze dell'ordine ha subito esclamato sono io Antonino Calì con sé aveva un documento falso nello specifico una carta d'identità valida per l'espatrio deteneva 1200 euro in contanti e documentazione aerea comprovante il suo arrivo da Valencia anche la pagina dell'emergenza sanitaria si apre con una notizia di cronaca sono 5 milioni di mascherine e 2 milioni di dispositivi medici tra cui saturimetri e termometri ad essere stati sequestrati dalla guardia di finanza di Milano in un blitz vicino alla stazione centrale è stata denunciata per ricettazione e frode perché deteneva illegalmente circa 5 milioni di mascherine contro il covid nei guai una donna cinese residente a Milano pizzicata dalla guardia di finanza mentre gestiva un'attività illecita di vendita di presidi sanitari in un magazzino affittato in nero nei pressi della stazione centrale all'interno del deposito mascherine di tutti i tipi tutte sprovviste delle necessarie certificazioni di conformità e circa 2 milioni di termometri e saturimetri stando a quanto riscontrato dalle fiamme gialle la donna effettuava anche consegne a domicilio a esercizi commerciali compiacenti di Milano al di là della cronaca c'è grande attesa per la giornata di lunedì 26 aprile quello ormai prossimo avvicinarsi del ritorno in zona gialla che significa una parziale ritorno anche alla normalità con l'apertura dei ristoranti e dei bar all'aperto allora noi abbiamo chiesto ai milanesi il loro parere sentiamo da lunedì l'Italia riparte bar, ristoranti, teatri, cinema e di nuovo via libera agli spostamenti tra regioni un lento ritorno alla normalità che è previsto passo per passo nel nuovo decreto approvato mercoledì 21 aprile dal Consiglio dei Ministri e che avrà validità fino al 31 di luglio penso che bisogna fare le cose con gradazione semplice da non trovarci come l'anno scorso che poi in autunno l'abbiamo pagata e in inverno i primi ad aprire lunedì 26 in zona gialla sono i ristoranti con la possibilità di servire i pasti al tavolo sia a pranzo che a cena esclusivamente all'esterno e dentro l'orario del coprifuoco che rimane nonostante alcune polemiche alle 22 secondo me sì è il momento giusto perché le chiusure non hanno giovato sicuramente per le attività, per l'economia e quindi secondo me è il momento di ripartire sicuramente anche se è rischioso perché incontreremo sicuramente la possibilità che la pandemia si possa riprendere però è il momento di tentare una riapertura ripartono anche cinema, teatri e sale da concerto con una capienza consentita del 50% e con non più di mille spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 500 al chiuso L'importante è che le persone adottino tutte le precauzioni che sono necessarie Il 15 maggio è l'altra data importante giorno in cui il governo ha dato il via libera alla riapertura delle piscine soltanto però negli impianti all'aperto e sempre dal 15 sia allo shopping nei centri commerciali anche nei giorni festivi e prefestivi Diciamo che si può iniziare ad aprire andandoci inizialmente piano e poi però ovviamente sono convinto che progressivamente ci siano le condizioni per poter riaprire sempre di più e per estendere tutto a tutti ovviamente con le dovute precauzioni Si vola poi al primo di giugno dove in base al programma ristoranti e bar potranno servire al tavolo i clienti anche al chiuso ma con consumazione massimo fino alle 18 sempre il primo di giugno è il momento delle palestre che in zona gialla potranno ripartire ma con lezioni prenotate e il divieto di utilizzare gli spogliatoi il primo di luglio infine via libera a fiere congressi a centri termali e ai parchi divertimento Queste dunque le principali novità di lunedì e non solo come abbiamo sentito nel nostro servizio aumenta ancora la presenza in classe degli studenti non sarà ancora al 100% si profila un 70% di presenze in classe non è l'unica novità che riguarda il settore dell'istruzione come anticipato nelle scorse ore dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana a partire da maggio saranno utilizzati i test salivari molecolari all'interno degli istituti di tutta la Lombardia questo per bloccare sulla nascere possibili catene di contagi sentiamo Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari lo ha annunciato il presidente della regione Attilio Fontana i test risultato di una sperimentazione attuata dall'Università degli Studi di Milano sono meno invasivi e più semplici da utilizzare e hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare ha spiegato Fontana Con un indice RT di 0,69 la Lombardia si proietta in zona gialla da lunedì zona gialla significa riaperture anche nelle scuole per questo che in Commissione Sanità questa mattina abbiamo affrontato il tema col Direttore Generale Pavesi e ci sono ottime notizie perché da mesi combattiamo per avere l'autorizzazione di utilizzare i test salivari nelle scuole che non necessitano il personale sanitario che sono assolutamente efficaci sono utilizzati in tanti paesi del mondo con ottimi risultati il Ministero non ci ha ancora autorizzato proprio la vicepresidente Morati in settimana aveva scritto Fontana oggi ha dato la notizia che verremo autorizzati al Ministero al Comitato Tecnico Scientifico e saremo la prima regione in Italia a utilizzare questo tipo di test nelle nostre scuole La Lombardia sarà dunque la prima regione della penisola a utilizzare questo tipo di test già autorizzato in Francia, Stati Uniti e Giappone in sostituzione del tampone molecolare nasofaringeo al momento unico strumento per confermare la positività al coronavirus Ci saranno anche i tamponi salivari per chi tornerà a scuola tu sei d'accordo a questi tamponi questi test rapidi? Beh assolutamente sì serve soprattutto per monitorare la situazione nelle classi fra i professori fra gli studenti anche per controllare appunto la situazione dei positivi in classe o no quindi sì sono stra-mega d'accordo Tutto è utile in questo momento Se non sono come dire non sono fastidiosi per ragazzi non dannosi perché no? Possono fare Ho letto che c'è gente che veramente ha infettato altri ragazzi non avendo avuto precauzioni Sembrano anche più comodi meno invasibili Certo sì sì è vero è vero più avanti penso che sia proprio così la cosa A proposito di test il 24 e il 25 aprile la brigata sanitaria Soccorso Rosso lancia l'iniziativa Tampone Partigiano per la festa della liberazione il gruppo di volontari che dal 12 dicembre ha effettuato 4.000 tamponi presso il tendone e bastioni di portavolta con il camper mobile nelle zone periferiche annuncia l'iniziativa per permettere ai vecchi e nuovi partigiani si legge di poter partecipare alle manifestazioni e dalle commemorazioni in totale sicurezza il tampone partigiano in particolare sarà effettuato dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio del 24 aprile in piazzale Cadorna e dalle 2 del pomeriggio alle 6 in piazza Castello un'analisi dell'Istat ha confermato in questi giorni quello che in molti pensavano un aumento netto dei decessi nell'anno del covid pensate nella zona del Magentino e della Biattensi nell'ultimo anno l'aumento è stato addirittura del 20% il 2021 l'anno in cui tutti pensavamo di uscire da un terribile 2020 ma è un anno che ci ha chiesto e ci chiede ancora dei sacrifici almeno nella prima metà di quest'anno un'ulteriore conferma che va a quantificare l'incidenza del covid sulle nostre vite e le nostre comunità arriva dall'Istat l'Istituto Nazionale di Statistica che nel suo report periodico ha pubblicato anche importanti informazioni sull'area del Legnanese del Magentino e dell'Abiatense un territorio il nostro che comprende 43 comuni in cui i morti nel gennaio 2021 sono aumentati del 20% rispetto all'anno precedente l'ultimo gennaio passato senza covid nei 43 comuni del territorio del Legnanese Magentino e Biatense come detto i decessi registrati nel primo mese dell'anno sono stati 496 contro i 408 del 2020 quando la pandemia non si era ancora manifestata con tutta la sua forza solo poche settimane fa l'Istat aveva comunicato il dato nella mortalità complessiva di tutto il 2020 confrontata con quella del quinquennio precedente scendendo anche in quel caso fino al dettaglio del singolo comune negli stessi 43 comuni del territorio già presi in considerazione il numero totale di decessi rilevato nel corso del 2020 era di 5.650 un numero che se confrontato con la media dei decessi annuali del quinquennio precedente cioè 4.312 porta a un aumento di oltre 1.000 unità pari a un aumento del 31% a proposito di dati vediamo anche il quadro giornaliero su contagi e vaccinazioni iniziamo con i dati forniti da Lombardia la notizia riguardante i contagi sale leggermente rispetto alla giornata di ieri la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati ieri era al 4,2 oggi siamo al 4,8% con 2.500 nuovi positivi sugli oltre 52.000 tamponi effettuati aumentano ancora i decessi in maniera significativa altri 54 sul territorio regionale della giornata odierna scende come vedete ancora la pressione fortunatamente sulle strutture ospedaliere meno 14 in particolare il dato relativo alle terapie intensive sempre ovviamente a livello regionale l'incremento dei casi per provincia invece ci dice che la provincia di Milano conta 751 nuovi positivi nella giornata di oggi 301 dei quali nella città di Milano avanza come vedete anche la campagna vaccinale nella nostra solita grafica il dato lombardo la somministrazione di dosi consegnate la percentuale arriva all'80,5% il dato nazionale si attesta ad oggi all'82,6% invece abbiamo detto all'inizio telegiornale delle diverse novità in arrivo dalla prossima settimana a cominciare dalle riaperture ma non solo anche lo strumento del Green Pass sono delle certificazioni che consentiranno lo spostamento tra le regioni in zona rossa e arancione sia al Pass Verde per spostarsi da una regione all'altra è questa una delle principali novità presente nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che permette a chi è munito della certificazione verde di spostarsi da una regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni ma chi può ottenerlo il Green Pass viene rilasciato innanzitutto a chi ha completato il ciclo vaccinale e a chi si è ammalato di Covid ed è guarito e infine a chi ha effettuato un test molecolare rapido con risultato negativo nel primo caso la certificazione avrà validità sei mesi dalla data del termine del ciclo vaccinale nel caso di chi ha già preso il Covid dura anche questo sei mesi dal certificato di guarigione e nel caso del tampone solo 48 ore dopo la data del test trovo che non sia un'idea molto intelligente assolutissimamente come mai perché creerebbe troppo disagio tra tutti perché comunque ci saranno quelli che si sposteranno e troveranno il sistema per spostarsi diversamente anche senza fare il tampone eccetera per cui assurdo veramente assurdo ma non so la confusione la crea potrebbe non crearla se ci fossero poi le cose giuste nel momento di questo pass verde se questo pass verde è solo un lascia passare però poi la gente in realtà fa quello che vuole non abbiamo i vaccini ancora pronti non abbiamo niente penso sia una questione di vaccini è importante avere prima i vaccini perché conoscendo gli italiani avranno i pass senza il vaccino più che altro e poi un po' di buonsenso che secondo me è la cosa che tutti dovremmo avere crea sicuramente solo confusione e per me potrebbe essere anche leggermente anticostituzionale in che senso? e beh questa è una limitazione delle persone è una limitazione a poter girare e a poter godere dei propri diritti per me è giusto perché è l'unico modo per per viaggiare sicuri e spostarsi da regione a regione anche se anche secondo me è giusto perché se no non vedo modo più sicuro diverse attività ripartiranno la prossima settimana come abbiamo detto nonostante diverse limitazioni gli ultimi ancora in attesa sono gli sportivi in particolare il mondo delle palestre dovrà attendere per la riapertura al chiuso delle strutture il primo giugno una notizia ovviamente che non fa piacere i gestori già provati da questo lungo lockdown sentiamo la notizia delle riaperture delle palestre dal primo giugno e solo se si è in zona gialla non fa molto piacere al settore che da sette mesi si trova con le proprie sale chiuse al pubblico in primis c'è il fattore tempo il mese di giugno in era pre-covid non era proprio il periodo giusto per iscriversi in palestra e questo preoccupa molto gli addetti del settore che vedranno molto probabilmente diminuire la propria clientela e a questo si aggiunge il problema che ormai da un anno a questa parte mette in secondo piano il mondo delle palestre le prime a chiudere per poi però essere sempre le ultime a riaprire è una beffa perché quest'anno lo stesso schema dell'anno scorso non può essere proposto sono esattamente sette mesi di chiusura contro i tre dell'anno scorso se il risultato è questo evidentemente le politiche che sono state adottate in tutto questo periodo non sono valse a nulla ci chiediamo sempre perché non possiamo riaprire a maggio in one to one per esempio nessuno ci dà risposte il sottosegretario non ci dà risposte i sostegni sono pressoché irrisori per cui sinceramente l'apertura al primo di giugno non sarà una riapertura in un'era normale i corsi a giugno per esempio vengono stoppati per cui effettivamente chi va in palestra sicuramente lo zoccolo duro delle palestre ci sarà molti torneranno ma non molti altri saranno appunto comunque condizionati dal fatto che magari a settembre a ottobre riprende di nuovo lo stesso schemino dei contagi e quindi se ne sta abbiatamente a casa evita di spendere soldi poi io penso che la gente avrà più voglia di svagarsi uscire viaggiare più che rintanarsi in una palestra di fronte a una pandemia tutti quanti hanno adottato le loro misure noi che comunque siamo chiusi in ogni caso tendiamo sempre a igienizzare ormai è diventato un gesto quotidiano per cui obiettivamente la palestra è più sicura di tanti altri posti in questo momento ripeto questo approccio doveva essere adottato già nei mesi scorsi aprire a giugno con queste condizioni è poco sensato cambiamo per un momento argomento andiamo a Corsico scusate per il caso di Daria la 44enne uccisa da un giovane che guidava un grosso scooter senza patente un caso controverso per cui è sceso in campo anche il comune sentiamo come un omicidio stradale la morte di una giovane donna di Corsico le indagini che si scontrano con un tentativo di inquinamento probatorio da parte dei colpevoli è un comune che entra in gioco con un ruolo fondamentale è la storia di Daria Sadun 44enne di Corsico uccisa da un 21enne di Milano che guidava sotto effetto di stupefacenti e senza patente uno scooter di grossa cilindrata da chiarire è proprio l'aspetto più inquietante della vicenda avvenuta sabato sera e cioè il tentativo di manomettere la scena del delitto la polizia locale che effettua le indagini per conto della procura ha aperto un fascicolo contro i gnoti per individuare chi si è reso responsabile dello spostamento dei mezzi della moto e della bici su cui viaggiava Daria un tentativo di alleggerire la colpa del giovane di Milano c'è massimo riservo sulle indagini fanno sapere dal comune di Corsico ma l'obiettivo è definire nel dettaglio le responsabilità di tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente in particolare sono state riesaminate le immagini scattate durante i rilievi eseguiti subito dopo l'incidente non solo dei mezzi coinvolti ma anche di tutta l'area circostante analizzando i fotogrammi di alcune telecamere di video sorveglianza l'accurato lavoro svolto dagli investigatori della polizia locale ha portato ad acquisire agli atti anche gli scatti di alcuni particolari dello scooter e della bicicletta sarà poi il magistrato a decidere se gli oggetti e i veicoli o rapposti sotto sequestro potranno entrare come prova nel processo oggi sono stati ascoltati dei testimoni e l'appello del comando della polizia locale è rivolto a tutti coloro che vivono nella zona o che passavano al momento dell'impatto sulla nuova Vigevanese e che potrebbero aver visto qualcosa sono utili anche dei particolari che solo in apparenza potrebbero sembrare insignificanti fanno sapere sempre dal comune intanto il sindaco Stefano Ventura ha convocato una riunione per concordare con la polizia locale e l'ufficio tecnico gli interventi più urgenti da attuare per le strade più critiche e eventualmente degli interventi anche di natura strutturale A proposito di cronaca proseguono anche i controlli anti-covid delle forze dell'ordine in particolare i carabinieri del radiomobile sono intervenuti ieri intorno alle 10 di sera in Viale Bezzi in seguito a diverse segnalazioni per schiamazzi in casa giunti sul posto i militari hanno scoperto una festa in appartamento con 25 persone presenti tutti studenti spagnoli del Politecnico tra i 21 e i 27 anni uno dei ragazzi un 24enne che aveva in locazione l'abitazione si è anche scagliato contro i carabinieri cercando di colpirli ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale controlli anche delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative dei locali sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale del Comune di Milano il prefetto Renato Saccone ha adottato 20 provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura per la durata di 5 giorni di 17 esercizi di vicinato e di 3 pubblici esercizi tutti ovviamente nel Comune di Milano cambiamo argomento a Bareggio adesso dove l'amministrazione ha deciso di entrare come azionista in Amaga alla Multiservizi con sede ad Abbiategrasso sentiamo a sorpresa uno dei comuni ai confini orientali del Magentino diventa azionista di Amaga società Multiservizi del Comune di Abbiategrasso una scelta spiegata nella conferenza stampa di mercoledì pomeriggio al Castello Visconteo di Abbiategrasso dal sindaco di Bareggio Linda Colombo che senza girarci intorno ha detto che la scelta è motivata anche dal fatto che i comuni che collaborano in Amaga non hanno screzzi politici e gestionali sulla società un chiaro anche se in diretto riferimento alle vicende della Magentina ASM degli ultimi mesi dove si è dovuto ricostruire il CDA a seguito delle dimissioni di più consiglieri cosa che ha dato il via a dichiarazioni incrociate di sindaci e consiglieri regionali il comune di Bareggio ha manifestato un forte interesse in Amaga non lo dico perché sono presenti loro due ma noi io e l'assessore Bentramello in particolare in quest'anno passato di covid purtroppo abbiamo lavorato molto sulla ricerca di qualità di servizi di qualità da portare ai cittadini di Bareggio perché il nostro obiettivo è questo e io su questo sono molto trasparente il presidente lo sa perché mi sono confrontata spesso con lui è stata una ricerca veramente complicata uno studio complicato che alla fine ci ha portato ad Amaga io sono molto contenta anche delle persone che compongono Amaga con cui c'è stato un primo confronto molto produttivo molto proficuo il fatto di aver dimostrato attenzione proprio perché abbiamo visto che c'è un'azienda sana e soprattutto è una realtà che ha tre comuni che comunque abbiamo anche potuto vedere confrontarci con i referenti sono solidi tra di loro non ci sono attriti abbiamo visto altre società dove ci sono sempre queste criticità e c'è la massima collaborazione da parte del comune di Bareggio a collaborare con la struttura Amaga super disponibili a collaborare e a sperare di iniziare un percorso tutti insieme un sindaco che così giovane permettimi Linda perché lo sei che comunque ha dato prova di saper amministrare con grande capacità un comune non di piccole dimensioni perché Bareggio è un comune che conta quasi 20.000 abitanti quindi è un comune complesso e che abbia subito questa capacità e questa disponibilità ad aprirsi ad uno scenario che come abbiamo visto è stato illustrato in un momento di dinamicità di trasformazione ma anche di prospettiva e questo non può che fare piacere Amaga chiude poi un anno positivo dal punto di vista economico-gestionale come spiegato dal presidente Piero Bonasegale nonostante la pandemia tutti gli indicatori sono positivi il risultato in crescita del 55% sono 11 le nuove assunzioni con investimenti nel segno dell'efficientamento energetico puntiamo a crescere grazie anche al valore aggiunto dato dall'ingresso del comune di Bareggio era la nostra ultima notizia noi come di consueto ci ritroviamo dopo la pubblicità con l'edizione Pavia di Bareggio